Batte un quaregezza ad Ancona da 45 anni e anche in quest'estate 2019 dal 1 al 18 luglio con il Summer Festival che porta nel capoluogo d'Orico 13 appuntamenti con i concerti alla Mole Van Vitelliana e alla Cantina Moroder ma anche due workshop, mostre fotografiche e presentazioni di libri. Quest'anno i protagonisti sono soprattutto i giovani, tanti gli artisti under 30, in particolare c'è un nome per questo concerto il prossimo 11 luglio per la rassegna che parte il 1 luglio. Esattamente, si chiama Jess Mia Horn, è un grande personaggio che ha subito sfondato sia a livello di pubblico sia a livello di critica vincendo numerosi premi negli Stati Uniti, due concerti soltanto in Italia e l'abbiamo accoppiata nel programma con un cantante che si chiama Charles Turner, addirittura anche più giovane, che ha vinto recentemente un premio prestigioso a New York Duke Ellington dedicato ai nuovi cantanti delle nuove generazioni che sta spopolando in tutti i maggiori festival e jazz club di New York e in esclusiva viene al nostro festival. Il jazz comunica anche con il cinema, con un'altra novità. Si, riguarda la sonorizzazione di un film muto, per la precisione cenere, un film del 1916 che è l'unico film in cui ha recitato Eleonora Duse. In occasione del centenario questa pellicola è stata restaurata e quindi viene riproposta con la sonorizzazione di due musicisti, Giovanni Ceccarelli e Marcello Allulli, tra l'altro Giovanni Ceccarelli è un pianista marchigiano che risiede da tempo a Parigi, hanno portato questo film, questa sonorizzazione in giro per tutta l'Europa e la ospitiamo all'interno del cartellone del cinema, alla cannalone della mole.